azioni biontech e previsioni questo è il secondo short di questa giornata che in parte doveva essere stata completata già qualche giorno fa però siccome in ufficio a napoli abbiamo avuto un po di casino all'interno di regus finiamo questa giornata di lavoro che abbiamo cominciato insieme con il aria il aria se stai guardando questo short lo sto girando anche in conclusione di quella giornata che tu ricordi come è andata a finire ma non fa niente non fa niente perché oggi ho bisogno di dare delle informazioni a persone che come te stanno guardando questo video e sono interessate a mercato azionario quindi nello specifico se sei interessato a scoprire come funziona il mondo delle azioni e se nello specifico ti interessa capire se hai bisogno di comprare o vendere ora adesso subito azioni della biontech vai subito sul mio sito sciromuto.com clicca sul link che trovi nella descrizione di questo profilo leggiti tutto l'articolo ma leggilo con attenzione perché le notizie di finanza si leggono con la dovuta calma dopo che hai letto l'articolo se all'interno non trovi tutto quello che ti serve e te lo dico io non trovi tutto quello che ti serve perché l'articolo è gratuito e se puoi scoprire come si fanno i soldi mi devi pagare cioè è una cosa normale penso no quindi leggiti l'articolo capisci chi sono legge la mia storia dopo di che dopo di che non perdere tempo compra trading azionario americano e compra la guida agli investimenti ma se hai già le basi non la comprare la guida agli investimenti perché la guida agli investimenti è la guida numero uno in italia per chi di finanza non capisce un cazzo se invece già capisci qualcosa e vuoi fare trading online compra trading azionario americano mi raccomando falla adesso perché i prezzi stanno per aumentare ed è una promessa che i prezzi aumenteranno entro il mese di ottobre va bene perché la gente tanta e stanno arrivando così tante richieste che io all'interno dei miei corsi live non posso passare l'intera giornata perché nello specifico già vivo di rendita ma mi piace anche dare delle informazioni alle persone che come te vogliono diventare ancora più ricche falla adesso schiaccia il pulsante compra te ne pentirai te ne penti perché ad ottobre faccio aumenta tutti i prezzi è una promessa amministrazione tu che stai guardando sto video no aumentiamo i prezzi da ottobre ok il corso costa 250 ciao